Come hanno fatto a comprarlo? Questo atto non parla di 90 ettari, se lo legga bene. Questo atto non parla di 90 ettari. Lei, prima di parlare, deve studiarsi bene le cose, dottore Gilles. Lei mi risponda. Se li studia bene. Mi risponda. Legga quanti ettari ci sono scritte là. Mi risponda. Perché non lo legge, dottore Gilles. Mi risponda. Lei è un falsificatore della realtà, è un mistificatore della realtà. Lei risponda. Perché lì c'è scritto un altro nome? Le sto dicendo che lei non gira la cittata. Lo legga quel nome. Lo leggo, non gira la cittata. Mi dirò quanti ettari ci sono qua. Lo legga. Io non ho tempo di leggere un documento. Non ho tempo di leggere. Se lo legga. Non ho tempo di leggere un documento. Se lo legga. Se lo legga. Se lo legga. Se lo legga. Prima di raccontare questa storia. Se lo legga bene e poi la riflettiamo. Non si metta così. Mi mette le mani addosso. Non mi permetterai. Non mi permetterai. Mi mette le mani addosso, signore. Si mette le mani addosso. Sonja, non si accomadi. Si accomodi. Non si accomodi. Non si accthura. Va bene Bene, bene, bene